Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradare regionale. In A12 segnaliamo senso unico alternato per un camion in avaria tra il BV A12 di Ramazione e Rivorno e Colle Salvetti, possibili rallentamenti. In Fipili un chilometro di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra in direzione mare. Segnaliamo la presenza di personale su strada, sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta. Uno sguardo alle statali sulla statale 62 della Cisa Corsia chiusa per cantieri tra Villa Franca e Lunigiana e Pontremoli nei due sensi di marcia. Ricordiamo inoltre l'obbligo di catene a bordo, dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana, l'elenco completo sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario informiamo che la biglietteria di Signa quest'oggi è chiusa al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!